in questa puntata vediamo come creare velocemente una lezione da proiettare online in pochissimi minuti possiamo anche rendere digitale un materiale cartaceo che abbiamo già per fare una lezione mirata ed incisiva quindi useremo un programma educational gratuito per docenti e studenti questo effetto di un libro che si sfoglia pagina per pagina è stato infatti creato con powerpoint online della microsoft andiamo a vedere velocemente come registrarsi e quindi andiamo innanzitutto su google e digitiamo microsoft for education e clicchiamo su questo link che ci porta alla versione per docenti e studenti dobbiamo avere un account istituzionale per poter effettuare la registrazione quindi utilizzeremo l'account della scuola o dell'università per registrarsi una volta inserito la mail istituzionale quindi quello della scuola o appunto dell'università scegliamo il percorso se studente o insegnante in questo caso scelgo insegnante e proseguo con la creazione dell'account quindi ci stiamo registrando per office 365 education e arriviamo alla pagina del login e quindi inseriremo tutti i nostri dati la password del login e facciamo accedi ups qua mi trovo un account precedente che avevo quindi vado a selezionare l'account istituzionale appena creato e la pagina ora si carica ed ecco che ho la versione online attivata e quindi collegata con l'account della scuola qua abbiamo degli input che ci dice cosa servono queste icona quindi possiamo anche leggere giusto per avere un'idea di quante cose riusciamo a creare con questo pacchetto office gratuito per insegnanti e studenti anche per creare appunto delle valutazioni automatica con forms una cosa tipo google forms suppongo ma ora vediamo come creare la nostra pagina di un libro sfogliabile quindi finito di leggere tutti i suggerimenti che ci dà appena abbiamo aperto la pagina possiamo selezionare powerpoint e andiamo sul più per avere una pagina pulita qui avevo già impostato delle pagine precedenti ma ora vediamo una pagina iniziale come fare innanzitutto andiamo su insert e andiamo su shapes forme prendiamo una linea tengo il tasto shift premuto e tiro una riga dritta che fa effetto di un libro aperto poi seleziono la riga che ho appena disegnato e andiamo su shape format e poi align e andiamo su quel tasto lì e gli diciamo di disporre appunto in centro in maniera tale che la riga si posizioni al centro delle due pagine così abbiamo appunto un effetto di un libro aperto prendiamo di nuovo da shapes un rettangolo e copriamo una parte delle due pagine aperte quindi possiamo inserire un colore che vogliamo con le sfumature o senza prendiamo questo come un esempio e possiamo anche modificare il dove proietta la luce se lineare oppure no al centro una volta fatto questo possiamo duplicare la pagina una volta fatta la prima pagina basta duplicarla ogni volta che vogliamo per aggiungerne altre e per duplicare la parte colorata basta cliccare su command e d insieme e poi spostare dall'altro lato e poi modificare appunto le pagine per diversificare da lì possiamo avere tutte le opzioni di colori e possiamo anche scegliere il bianco e poi inserire delle immagini per inserire delle immagini andiamo su insert e dal nostro computer selezioniamo un'immagine che abbiamo preventivamente salvato per esempio tt e lo mettiamo lì possiamo ingrandire e posizionarla su quella parte dove abbiamo lo sfondo bianco e quindi non serve nemmeno togliere lo sfondo dall'immagine e qui possiamo inserire una casella di testo cambiare il colore dello sfondo e quindi possiamo inserire bianco per dare un risalto e scrivere vediamo insert e facciamo una casella di testo e inseriamo il testo che vogliamo scrivere a titolo esemplificativo inserisco un modo nuovo di greetings per bambini per salutarsi e una volta completata vediamo ingrandiamo un attimino di più per dare risalto visto che sarà proiettata se scriviamo in piccolo non si potrà leggere bene vediamo di completare velocemente la prima parte e poi possiamo duplicare la parte così abbiamo la poesia completa una volta che abbiamo inserito le nostre immagini testo e abbiamo duplicato tutte le slides che desideriamo come pagine possiamo procedere ad inserire la transizione che dà quell'effetto finale del libro che si sfoglia selezioniamo le pagine dopo quelli della copertina e andiamo su transizione e scegliamo da quel tasto sfogliamo fino a quando abbiamo trovato page curl quindi andiamo avanti e abbiamo page curl che è proprio quello che sfoglia applichiamo la transizione e così abbiamo fatto in un attimo tutte le pagine che si sfogliano come transizione in questa maniera qui per velocizzare ed applicare a tutte le slides questo effetto basta tenere premuto command a si selezionano tutte le slides e poi tenendo premuto lo shift togliamo dalla prima slide la selezione e poi applichiamo la transizione page curl in maniera tale da avere la prima pagina ferma e l'effetto dello sfogliare la pagina inizi subito dopo così è più realistico per avere questo formato che si sfoglia e vogliamo proiettarlo a scuola con la limma dobbiamo fare accedi al nostro powerpoint e poi proiettare altrimenti se apriamo con google slides forse l'effetto si perde possiamo anche inserire questa attività nel nostro google classroom però si apre se abbiamo soltanto il computer locale in powerpoint che riusciamo ad avere quell'effetto altrimenti se apriamo con google presentazioni vediamo cosa succede possiamo avere la copia in google presentazioni però l'effetto si perde andiamo a vedere clicchiamo su avvia presentazione e qui vediamo che si apre come una normale slide e non più come l'effetto che abbiamo visto prima tuttavia il programma che abbiamo usato per crearlo essendo un programma online nulla vieta che possiamo accedere direttamente da lì ed aprire il programma in virtuale ed avere quell'effetto che abbiamo visto prima personalmente preferisco questo modo di sfogliare le pagine per presentare un argomento preciso ed è molto più semplice, veloce e d'impatto questo è tutto, alla prossima puntata, ciao! ciao!